Bentornati! In questa lezione parleremo dell'uso delle curve per la modellazione facendo anche un esempio pratico. Vedremo inoltre come utilizzare le immagini di riferimento come sfondo per poter essere ricalcate. Cancelliamo il cubo di default quindi inseriamo un oggetto di tipo curva, ad esempio una curva di Bezier. Premiamo il tasto 7 del tasterino numerico per posizionarci nella vista dall'alto, quindi entriamo in Edit Mode per vedere come è fatta al suo interno una curva. Vedete abbiamo due vertici di controllo che a loro volta hanno altri due vertici che definiscono una direzione. La differenza fondamentale tra una curva e una mesh è che la curva in realtà è definita da una funzione matematica. Se adesso io per esempio seleziono il primo vertice, quello sulla sinistra, ed effetto una rotazione con il tasto R vedete che la curva modifica il suo andamento. In maniera analoga a quanto accade per le mesh possiamo aggiungere degli elementi alla geometria effettuando delle estrusioni. Con il tasto E possiamo estrudere e quindi creare un nuovo vertice. In qualsiasi momento possiamo uscire da Edit Mode e chiedere a Blender di trasformare questa curva che è appunto una forma definita da una funzione matematica in una mesh. Il comando lo troviamo nel menu Object, Convert, Mesh from Curve, cioè dammi una mesh partendo da una curva selezionata. In apparenza non è cambiato nulla. Tuttavia se entriamo in Edit Mode vediamo che adesso la curva non ha più i vertici di controllo ma ha una serie di vertici e spigoli, come una qualsiasi altra mesh. Qual è dunque il vantaggio che possiamo trarre dall'uso di una curva? Vi faccio un esempio. Estrudiamo questo vertice più volte, vi ricordo se usa il tasto E per andare a definire ad esempio questa curva. Vedete? Quindi aggiungiamo dei punti intermedi, suddividiamo questi tre segmenti in più parti, selezioniamoli, assicuriamoci di essere in modalità di selezione vertici, quindi col tasto destro richiamiamo il comando Subdivide. Possiamo inoltre decidere di aumentare il numero di suddivisioni con le opzioni che troviamo qui in basso a sinistra. Vi faccio notare però che le suddivisioni sono in linea retta, questi tre segmenti che avevamo creato estrudendo i vertici si mantengono comunque ben visibili perché i vertici intermedi si sono posizionati lungo i tre spigoli. Quando invece utilizziamo una curva, ve ne inserisco un'altra, e effettuiamo una suddivisione, sempre col comando Subdivide, guardate cosa succede. I punti intermedi che si sono andati a creare hanno comunque seguito l'andamento della curva. Questo ci permette di mantenere la geometria e quindi ricalcare delle forme curvilinee. Infatti lo strumento curva di Bézier è proprio utilizzato per creare degli elementi curvilinee. Facciamo un esperimento provando a inserire un'immagine di sfondo, quindi la ricalchiamo per poi effettuare un'estrusione. Ripartiamo dalla scena iniziale, cancelliamo il cubo di default, assicuriamoci che il 3D cursor sia al centro, quindi Shift S, Cursor to Origin, quindi andiamo a inserire un'immagine di sfondo. A partire dalla versione 2.8 di Blender l'immagine di riferimento si inserisce come qualsiasi altro oggetto. Quindi premiamo Shift A, Image, Background. Io in questo caso ho utilizzato l'immagine di questo vaso, ma potete utilizzare qualsiasi altra foto. Vedete che Blender ci posiziona l'immagine di riferimento parallela alla vista attuale, tuttavia se proviamo a ruotare la vista vediamo che l'immagine è in una posizione alquanto scomoda per noi. Quindi annulliamo il comando e posizioniamoci nella vista ad esempio frontale, col tasto 1 del testerino numerico. Quindi richiamiamo nuovamente il comando Shift A, Image, Background. Ecco che adesso l'immagine è parallela al nostro piano frontale, ma se proviamo a ruotare il punto di vista questa sparisce. Andiamo quindi a vederne le impostazioni per capire qualcosa di più. Le troviamo nel pannello Object Data. Vi invito a far caso a questa icona. Cambia a seconda del tipo di oggetto che selezioniamo mano a mano. Ma sempre Object Data si chiama. Lo vedete lasciando fermo il cursore del mouse sull'icona. Vedete compare la scritta Object Data. Ecco all'interno di questo pannello possiamo scegliere alcune opzioni. Ad esempio possiamo dire a Blender che vogliamo vedere questa immagine anche quando siamo in vista prospettica. Quindi adesso se proviamo a ruotare la vista l'immagine continuiamo a vederla. E vediamo che è disabilitata di serie l'opzione Display Backside. Infatti se giriamo dietro all'immagine questa scompare. Non è un difetto, è proprio una cosa voluta. Perché spesso le immagini di riferimento, ad esempio le blueprint, vengono utilizzate per poter modellare un oggetto visto da più posizioni. Immaginatevi di dover ricalcare ad esempio un'automobile. Potete quindi inserire più immagini come sfondi e queste non interferiscono una con l'altra perché nel momento in cui cambiate il punto di riferimento le altre scompaiono. Nessuno vi vieta comunque di forzare la vista anche del lato opposto. Basta abilitare il Display Backside. Comunque per ora lasciamo la impostazione di default. Vediamo anche che Blender tratta le immagini di riferimento come se fossero qualsiasi altro oggetto. Infatti se andiamo all'interno dell'Outliner vediamo che esiste l'immagine chiamata Empty che ci indica appunto l'immagine. Possiamo inoltre decidere nella grandezza con il parametro Size e la posizione con il parametro Offset X e Y. X e Y ovviamente riferiti alle coordinate dell'immagine stessa non alle coordinate del nostro sistema di lavoro, nel nostro spazio. Manteniamo sull'asse X il valore meno 0.5 mentre sull'asse Y andiamo a modificare in modo che la base del vaso corrisponda all'origine. Andiamo quindi a inserire la nostra curva di Bézier per poi iniziare a ricalcare il vaso. Magari prendiamo l'immagine un pochino trasparente per essere agevolati sull'operazione di ricalco. Con Shift A richiamiamo il comando Add e selezioniamo Curva di Bézier. In questo momento noi la vediamo come una linea perché questa è appoggiata al piano XY. Tuttavia se facciamo clic qui in basso a sinistra possiamo chiedere a Blender di allinearci l'oggetto che abbiamo appena inserito alla vista corrente. Entriamo quindi in Edit Mode e andiamo a posizionare il primo vertice al centro del vaso. Premiamo il tasto G e spostiamo il primo vertice. Selezioniamo adesso il secondo vertice e spostiamoci nel secondo punto di riferimento. Come si fa adesso a gestire questa curva di Bézier? Come facciamo a dire che vogliamo seguire la curva del vaso? Ho sempre trovato un po' difficile l'uso di questo strumento anche in altri programmi. Tuttavia se riusciamo a visualizzare bene che cosa vogliamo fare, le curve che vogliamo ricalcare, vedremo che non è poi così difficile. Questi due vertici che stanno ai lati opposti formano un segmento che noi dobbiamo posizionare in maniera tangente alla curva che vogliamo ricalcare. Eseguiamo una rotazione, tasto R e mettiamo questa linea di controllo in modo che sia tangente alla curva. Stessa cosa facciamo con il vertice sottostante. Premiamo R e ci mettiamo in posizione tangente. Vedete che adesso la curva è proprio ricalcata bene. Se vogliamo fare ulteriori aggiustamenti possiamo agire sui punti di controllo e spostarli. Premiamo il tasto G, quindi li avviciniamo verso il vertice e vedete che la curva si stringe leggermente per prendere proprio la forma del vaso. Andiamo a selezionare il vertice e quindi effettuiamo una seconda estrusione e andiamo a posizionarci in un altro punto del vaso, quindi tasto E. Proviamo di nuovo a fare una rotazione mettendoci in posizione tangente alla curva. Quindi andiamo ad agire sulla posizione dei vertici di controllo. col tasto G e ancora di qua col tasto G. Con un po' di pratica vedrete che è abbastanza semplice effettuare questa operazione. Continuiamo, tasto E, R per ruotare, ci mettiamo in posizione tangente alla curva e quindi andiamo a spostare i vertici di controllo. Ancora tasto E per estrudere e ruotiamo. Quindi andiamo a spostare ancora i vertici di controllo. Questo metodo di applicazione della curva di Besien lo potete applicare anche ad altri software che utilizzano lo stesso strumento. Per terminare l'ultima parte del vaso avviciniamoci, effettuiamo un'ulteriore estrusione col tasto E, quindi scaliamo i punti vertici di controllo per avvicinarli al loro centro. Ruotiamo, quindi andiamo ad agire sui rispettivi vertici di controllo. Col tasto G. ovviamente quando le curve si fanno strette è un pochino più difficile da gestire, però si fa tutto. Siccome il vaso ha anche un suo lato interno, anche se non lo possiamo vedere, effettuiamo delle estrusioni anche dentro, magari in maniera un po' più grossolana, perché tanto non ci interessa che sia estremamente preciso, sarà all'interno di un elemento che non si vedrà in fase di rendering. Ecco fatto. Possiamo adesso uscire da Edit Mode e chiedere a Blender di convertire questa curva in una mesh. Casomai, prima di farlo, duplichiamola per averla come riserva. Mettiamo che facciamo qualche pasticcio e possiamo duplicarla e quindi tenerla per dopo. Con Shift D eseguiamo la copia e ce la mettiamo qui, da una parte. Quindi torniamo a selezionare quella posizionata sul nostro vaso e andiamo a convertirla. Object Convert to Mesh from Curve. Entriamo in Edit Mode per controllare. Vediamo che i vertici seguono in maniera uniforme le curve che siamo andati a definire. Potevamo farli più fitti con delle suddivisioni. In più vediamo che effettivamente ci sono anche delle geometrie eccessive. Possiamo ad esempio cancellare un po' di vertici dove non ci serve. Teniamo per muto il tasto Shift e andiamo a selezionare un po' di elementi, magari soprattutto internamente al vaso che anche se ce ne sono pochi ci interessa il giusto. Poi con Ctrl X li dissolviamo. Vedete così abbiamo limitato di molto la complessità della geometria. Sempre con Ctrl X andiamo a dissolvere. Ecco magari quelli che fanno parte dell'ultimo pezzo che è più facile che siano visibili da fuori li lasciamo così. Ora possiamo utilizzare un comando molto interessante che serve per eseguire un'estrusione circolare. Non la classica estrusione che abbiamo utilizzato fino adesso premendo il tasto E, ma un'estrusione che giri attorno. Attorno a cosa? Attorno al 3D Cursor. Quindi assicuriamoci di posizionarlo in corrispondenza del punto centrale del vaso, quindi con Shift S, Cursor 2 Selected. Quindi selezioniamo tutto, tasto A, andiamo a richiamare il comando Spin che si richiama con questo pulsante oppure con l'abbreviazione Spazio Shift 6. Vedete che compare questo doppio più che ci consente di cliccare e trascinare per effettuare l'estrusione. Vedete questa avviene attorno al 3D Cursor. Lasciamola così a occhio perché tanto possiamo andare qui nelle impostazioni in basso a sinistra per definire l'angolo, 360 gradi. Impostiamo il numero di step, mettiamo almeno 32, che è il numero di fette verticali, chiamiamole così. Quindi andiamo ad eseguire le tre cose che ci siamo detti nell'ultima lezione. 1. Verifichiamo che non ci siano vertici duplicati. Selezioniamo tutto. Vertex, Remove Double Vertices. E vedete che ne ha rimossi 31. Poi con Shift N ricalcoliamo le normali. Vedete che è diventato tutto chiaro. Infine usciamo ad Edit Mode e applichiamo la scala con Ctrl A, Scale. Quindi abbiamo applicato la scala, rimosso i vertici duplicati, ricalcolato le normali. Infine non ci resta che visualizzare in maniera smussata il nostro vaso. Object, Shade Smooth. Ed ecco che abbiamo modellato il nostro vaso partendo da un'immagine di riferimento. Ci sarebbe da fare la base, sarebbe stato da farlo prima di effettuare l'estrusione. Vi invito magari a ripetere l'esperimento modificando appunto la forma. Comunque lo scopo era quello di farvi vedere come funziona la curva e come questa può essere utilizzata per poi essere trasformata in un'estrusione circolare. Vediamo velocemente un altro uso delle curve. Ricominciamo con una nuova scena, Ctrl N. Cancelliamo il cubo di default. Mettiamo il 3D cursor al centro. Shift S, Cursor to World Origin. Quindi andiamo ad inserire una curva di Bezier. Shift A, Curva, Bezier. Posizioniamo anche un altro tipo di curva, ad esempio una circonferenza. Magari clicchiamo in un altro punto per spostare 3D cursor. Shift A, mettiamo una circonferenza. Quindi andiamo a selezionare la curva di Bezier. Ecco, io adesso stavo cliccando cercando di selezionarla ma senza riuscirci perché vedete qua siamo nella modalità di spostamento 3D cursor. Per poter selezionare un oggetto dobbiamo essere invece nella modalità Select e possiamo passare in questa modalità premendo il tasto W. Entriamo in Edit Mode, spostiamo i due vertici in modo da allungare un po' questa curva. Quindi torniamo fuori da Edit Mode e andiamo di nuovo nel pannello Object Data. Vedete che ha cambiato icona. Prima era un'icona che indicava un'immagine, adesso l'icona indica una curva. Andiamo nella sezione Geometry, in particolare nella sottosezione Bevel. Guardate, abbiamo la possibilità col contagocce di andare a selezionare un oggetto oppure facendo clic di andare a indicare un oggetto presente nella scena. Proviamo a farlo, indichiamolo e guardate cosa succede. La nostra curva di Bezier è diventata una sorta di tubo e questo tubo ha come sezione questa circonferenza che siamo andati a selezionare. Se adesso per esempio scaliamo la circonferenza e di conseguenza viene scalato anche il nostro tubo e se entriamo invece in Edit Mode selezionando la curva di Bezier possiamo modificare in tempo reale la nostra forma geometrica. Con questo sistema possiamo creare delle forme molto interessanti, possiamo creare ad esempio dei cavi elettrici, delle corde, possiamo disegnare le grondaie, le lattonerie di un edificio. Per chi conosce SketchUp è un po' come utilizzare lo strumento Follow Me in maniera molto molto più potente. Guardate cosa succede, andare a modificare la circonferenza, entriamo in Edit Mode, se io adesso sposto il vertice superiore vedete che cambia anche la sezione del tubo in tempo reale. Una volta definito il nostro oggetto lo possiamo convertire in una mesh con il comando che troviamo nel menu Object, Convert to Mesh from Curve. Entriamo in Edit Mode e vediamo che l'oggetto è una mesh. Vedremo magari in qualche esercitazione pratica come sfruttare questo potentissimo strumento che Blender ci mette a disposizione. Bene, per questa lezione è tutto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Ci rivediamo alla prossima. A presto!